Benvenuti, cari follower. Chi è allora Iman Khalif, il pugile algerino che ha sconfitto la pugile italiana Angela Carini in meno di 46 secondi e dopo essere stato fermato dall'arbitro? Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci e incoraggiarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video. Grazie. Quindi, secondo quanto riportato dai media arabi e internazionali, Iman Khalif è una pugile algerina, nata il 2 maggio 1999. Ha vinto una medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo e una medaglia d'argento ai campionati mondiali dei pesi leggeri. Ha vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali AIBA del 2022. Lo stesso organo direttivo l'ha squalificata DAL. Torneo dello scorso anno poco prima della partita per la medaglia d'oro, a causa di quelli che secondo lei erano alti livelli di testosterone. A causa del mancato rispetto dei criteri di ammissibilità nazionali. Il pugile algerino Iman Khalif ha ricevuto il via libera dal Comitato Olimpico Internazionale per partecipare alla competizione di box nell'ambito delle Olimpiadi di Parigi 2024, attualmente in corso. Ha partecipato al torneo e la pugile algerina è diventata famosa dopo il suo ultimo e controverso incontro con la pugile italiana Angela Carini, dove lo scontro si è concluso con la vittoria di Iman Khalif, dopo che Angela Carini si è ritirata, a causa della sua riluttanza, a continuare il combattimento e anche perché Noia ha subito un infortunio al naso. Infine, condividete con noi, cari follower, le vostre opinioni e commenti su questo argomento.